È una gara molto divertente e parteciperanno tutti i nostri amici! Il mio daddy e Dio stiamo preparando una torta per la festa della mamma! Ora vediamo se dal primo albero arriva il verso della mamma di Rosso Bebé! Io non vedo alcun gomitolo di lana! No, nemmeno io! È molto comoda! C'è posto per noi due così stiamo all'ombra? Il puzzle! È un'anguilla!